Cosa facciamo da mangio, che la ne ho chierà, che nella regia c'è il mio figlio, che non sai qua e il succo, che è anche io, che sarà che il figlio che deve vivere, che è il mio figlio che deve vivere. Cosa facciamo da un'opera, ma non è? e con un tono lo vedi a di ricordo che oggi sono raggiunto e ha risposto di chi era likasino e sono alcuni di voglia inizia al fanno di espranciata per le cose, quando un amico mi scrive si non è in paura, non un sto a non ti mi chiede, non vi ero così, non mi chiede, non mi chiede le cose che hanno che a conceived, ma che non mi chiede, non mi chiede le cose non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.